Cordiale saluto dalla redazione di tribimeteo.com. Giungono correnti un po' più instabili sulle regioni del nord che nel corso del pomeriggio di venerdì causeranno un po' di instabilità soprattutto sulle aree montuose contemporanei, sconfinamento poi alle pianure verso la fine del giorno. Residio instabilità anche sulle regioni del sud specie sui rilievi. Vediamo le temperature minime che saranno stabili o in lieve rialzo al nord. Per quanto riguarda i valori massimi da segnalare temperature molto gradevoli con clima ancora caldo specie sulla Val Padana dove si toccheranno ancora 30 gradi ma anche sulle interne tirreniche dove si raggiungeranno 31-32 gradi. Vediamo ora dettaglio per le regioni del nord dove la giornata inizierà l'insegna del sole un po' ovunque anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto in montagna con occasione per temporali rovesci anche diffusi nel corso del pomeriggio a partire dai settori centro orientali confinali ma in sconfinamento poi ai settori prealpini e verso sera e nel corso della notte anche alle pianure venete e alla Val Padana in genere orientale. Per quanto riguarda le regioni del centro condizioni di bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi su pianure e coste, un po' di nuvolosità sulla catena peninica con occasione per qualche isolato temporale sulla dorsale toscana ma anche tra Abruzzo e Molise. Infine vediamo le regioni del sud dove la giornata sarà generalmente soleggiata con cieli da poco o parzialmente nuvolosi salvo un po' di variabilità già sulla bassa Calabria nel corso della tarda mattinata dove si potranno sviluppare anche dei rovesci dei temporali così come sul resto della dorsale a tratti anche sulle interne pugliesi ma anche sulla Sicilia interna. Così come sulla Sardegna dove si potranno avere isolati temporali in sconfinamento sui settori centro-settentrionali dell'isola.